La chiusura sarebbe una tragedia. A Napoli i lavoratori della Whirlpool in assemblea dopo l'annuncio della società che intende cedere lo stabilimento. Domani previsto un incontro al Ministero, il servizio di Anna Testa. Domani c'è il tavolo al Ministero e noi ci aspettiamo che il Ministro sia presente. Questa è la sua città, peraltro. Quello è il suo accordo, l'ha firmato personalmente, a proposito di assunzione di responsabilità. L'attesa per l'incontro di domani al Ministero per lo sviluppo economico è forte. Sul tavolo l'accordo siglato lo scorso 25 ottobre, accordo che oggi invece viene messo in discussione dall'azienda, la Whirlpool. Chi si canna con noi andrà a portare la parola nostra, che la cattina, andrà a rispettare l'accordo 2018. È base. Io sono un dipendente di Whirlpool da 30 anni, è inspiegabile. Non capiamo più niente. 450 ai lavoratori interessati della Whirlpool di via Argine a Napoli, ma ad essere coinvolti anche gli altri stabilimenti napoletani e l'indotto. Se questa è la tendenza, Trento-Napoli, e se abbiamo capito che comunque questi vanno in Polonia o comunque nei paesi dell'est, non possiamo far finta di niente. Stamane assemblea infuocata tra lavoratori e sindacati nazionali e regionali per confrontarsi sull'incontro di domani. Non è possibile che a Napoli si chiuda una realtà come questa e perdiamo altri 1.500 posti.